Dopo tre anni dall'inizio del processo si è chiuso con due condanne e un'assoluzione, il primo capitolo giudiziario sulle bombe di Reggio, fatta esplodere cinque anni fa contro la procura generale della città sullo stretto, l'abitazione del procuratore generale Salvatore Di Landro e l'intimidazione all'ex procuratore di Reggio Giuseppe Pignatone, ora capo della procura di Roma con un bazooka fatto trovare davanti la sede della Didia Regina. Dopo un'ora di Camera di Consiglio il Tribunale collegiale di Catanzaro presieduto da Anna Maria Raschellà ha sentenziato otto anni, sei mesi di reclusione e duemila euro di multa per Luciano Lo Giudice, considerato l'istigatore, il fratello di Antonino, detto il nano, boss dell'omonima Cosca, cinque anni, otto mesi e mille e cinquecento euro di multa per Antonio Cortese, definito il bombarolo della Cosca, tutti e due presenti in videoconferenza alla lettura del dispositivo. Entrambi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici tenuti al risarcimento delle parti civili, tra cui il Comune di Reggio Calabria e il Ministero della Giustizia. Assolto invece Vincenzo Puntorieri, considerato dall'accusa l'esecutore materiale della strategia della tensione per non aver commesso il fatto. Il collegio ha confermato quasi in toto le richieste del PM Domenico Guarascio, che in aula il 30 novembre scorso, al termine della requisitoria, aveva chiesto tre condanne. Sarebbe stato proprio il nano, il pentito atipico, a fornire nomi e cognomi di chi avrebbe materialmente piazzato gli ordigni, salvo poi ritrattare la sua versione dei fatti in un memoriale. Grazie 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 Grazie